Un intervento di pulizia della spiaggia qui alla Foggia viene eseguito oggi dal comitato di quartiere guidato da Mauro Butera. Ci sono alcuni volontari impegnati in questa attività, vedete hanno già raccolto alcuni sacchi di rifiuti. Il comitato ci tiene a sottolineare che questa non è un'attività in polemica con il comune, con chi svolge il servizio, ma una vostra iniziativa anzi per aiutare e consentire che la spiaggia si trovi in condizioni migliori quando speriamo già nei prossimi giorni arriverà tutta la gente che ogni anno frequenta la Foggia. Sì, sicuramente. Noi già all'inizio della stagione abbiamo avuto un primo contatto con i funzionari del comune, nello specifico con il geometra Saladino che ringrazio apertamente. e no, non vuole essere polemica, ma assolutamente un momento di aiuto al comune in questo momento particolare della nostra epoca. E niente, stiamo dando questa pulizia alla spiaggia che abbiamo ritrovato piena di cassette di polistirolo e di bottiglie di plastica. Quindi significa che tutta la sporcizia arriva dal mare? Sì, praticamente sì. E purtroppo debbo riscontrare questa, ancora una volta, presenza massiccia di cassette di polistirolo che evidentemente proviene dai pescherecci che li buttano in acqua. Ecco, per il resto come si presenta questa stagione alla Foggia per quanto riguarda le condizioni della località balneare? Ci sono i soliti problemi di perdite idriche e quindi alcuni interventi che comunque vanno eseguiti? Devo dire che quest'anno la situazione è di gran lunga migliorata. I perdite idriche non ce n'è più. Sono stati fatti due interventi, stavolta sembra fatti a regola d'arte, risolutivi. Quelle altre due perdite che sembrava che fossero indipendenti invece si sono prosciugate e sembra che derivassero da quelle due che sono state riparate. Al momento la situazione è sotto controllo e la spiaggia si presenta in ottimo stato. Voi avete risolto qualche anno fa il problema dell'abbandono dei rifiuti con quell'attività di sensibilizzazione massiccia che avete effettuato e questo può essere un buon viatico anche per altre zone della città. Se si segue con costanza, se anche i residenti vigilano affinché nessuno abbandoni i rifiuti, il problema si può risolvere. Ricordiamoci cosa accadeva fino a qualche anno fa proprio nella parte iniziale della contrada Foggia. Sì, io dico sempre che la città è nostra e la viviamo noi, a prescindere dall'accesso turistico, per cui è importantissimo che siamo noi i primi a rispettare il nostro territorio, evitando di abbandonare i rifiuti inopinatamente. Questo non può fare altro che rendere la nostra città più vivibile, più accogliente e sicuramente a livello sanitario più igienico. Grazie. 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 Grazie.